carissimi benvenuti in sum gioia tv questo breve video vuole semplicemente informarvi su cosa è questo progetto di sum gioia tv e voglio iniziare presentando me soprattutto che l'ho ideato mi chiamo serenella ballore e da più di 26 anni mi occupo di crescita personale di supporto umano motivazionale di crescita spirituale tutto iniziato quando la bellezza di 26 anni fa quando avevo solo 33 anni ho avuto un'esperienza di premorte un viaggio nell'altra dimensione un ritorno e da lì la voglia di essere altro quindi da informatore medico scientifico mi sono preparata per diventare un giorno un supporto per l'umanità prima di tutto per me stessa e poi per tutti coloro che in qualche modo conoscendo se stessi vogliono vivere meglio e vogliono realizzare nella loro realtà il meglio per sé e per tutti coloro che incontrano siamo qui per fare la differenza siamo qui per rendere questo mondo bellezza armonia paradiso tuttavia se prima non conosciamo noi stessi e non iniziamo ad educarci al bene e alla gioia e alla pace e all'amore sarà difficile mettere in ordine la nostra casa e soprattutto questa grande casa che è madre terra nasce così in me il desiderio di prepararmi ovviamente da tutti quanti i punti di vista quindi ho allenato la mia coscienza ho allenato la mia conoscenza fino a diventare un counselor olistico un formatore motivazionale un educatore spirituale e in questi 26 anni ho fondato scuole o sono stata un po pioniera di tutto questo mondo ma non sono qui per parlarvi completamente di me ma soltanto per accennarvi a cosa mi ha fatto venire la voglia poi di creare questo progetto che si chiama sum gioia tv un progetto che condivido con tutti gli allievi della mia scuola che condivido con tanti altri magnifici colleghi che come me da tantissimi anni percorrono questa via della crescita interiore personale e con viviana grasso con la quale conduco questa queste puntate e questo progetto bene sum gioia tv nasce per creare un supporto umano motivazionale anche in questo momento dove tutto sembra tenerci separati fino a qualche tempo fa giravo l'italia e anche il mondo e facevo magari eventi convegni workshop e molta attività gratuita di volontariato attraverso la nostra associazione tu sei unico e irripetibile per sostenere il progetto umano tuttavia a un certo punto è arrivato quello che chiamano il lockdown e di conseguenza è stato sempre più difficile mantenere fede a questo intento è così che è nata l'idea di creare una piccola tv che speriamo diventi sempre più grande per poter sostenere chi lo desidera con una serie di argomenti e di culture rispetto a determinate situazioni che possono essere nella vita sociale nella vita personale nella vita lavorativa in relazione con l'ambiente con i nostri regni umano vegetale minerale tutto quello che noi vogliamo dove possiamo coltivare in qualche modo la nostra gioia ecco quindi che sum gioia tv è supporto umano motivazionale ma sum è anche io sono e poi gioia quindi noi vogliamo supportare coltivando la gioia ma anche trasmettere il desiderio di essere gioia io sono gioia questo è l'obiettivo fino ad ora in quest'ultimo anno si è coltivato molto anche il dolore la paura la sofferenza la separazione e tanti altri misteri che in questo periodo ci stanno in qualche modo abitando ma noi vogliamo invece coltivare la gioia perché anche nei momenti più difficili della vita c'è sempre una fiammella dentro di noi che può rimanere accesa e allora tutto il resto continuerà ad esistere ci auguriamo che tutto si stabilisca nel migliore dei modi e abbiamo fiducia e fede se non delle persone magari nell'universo tuttavia è importante che continuiamo a mantenere accesa questa nostra fiammella ecco perché siamo qui quindi è nato questo canale che è supportato dai vari social in particolare da questo canale youtube sum gioia tv la mia richiesta? bene iscrivetevi in tanti aiutateci ad essere tanti a diventare un coro immenso che possa continuare ad intonare la nota della gioia anche nei momenti più difficili per aiutare coloro che magari faticano di più o per sostenerci fra di noi e rimanere uniti sì perché la gioia è un grande collante d'amore che può tenersi uniti ed è soltanto rimanendo uniti che possiamo superare qualunque tipo di ostacolo quindi la mia richiesta è iscrivetevi al canale attivate le notifiche quindi la campanellina seguideci se potete se volete in diretta oppure anche in differita riascoltando le nostre registrazioni e condividete con più gente possibile questa opportunità affinché altri possano ricevere questo strumento per coltivare la gioia stiamo cercando di creare un esercito di luce di coltivatori di gioia e sarei tanto felice che ci foste tutti voi con noi in questa avventura quindi mi raccomando iscrivetevi ma soprattutto contribuite anche con le vostre idee lasciate dei commenti scriveteci in particolare se volete anche una mail un messaggio su messenger direttamente sui commenti qui sul canale fateci le domande noi saremo felici insieme a tutti quanti gli altri esperti di rispondervi e di sopportarvi anche personalmente ma soprattutto partecipate dateci anche delle idee, degli spunti perché questo progetto è un progetto di riunione di tutti gli esseri umani che vogliono coltivare la gioia quindi non è solo il mio progetto io l'ho soltanto intuito e ho fatto in modo che diventasse realtà ma questo progetto è possibile grazie a tutti coloro che cooperano insieme a me e grazie a tutti voi che condividete con me la gioia e la voglia di diffondere questi messaggi intervistiamo personaggi di tutto il mondo portiamo messaggi che ci danno la possibilità di scoprire che non esiste soltanto il dolore non esiste soltanto la sofferenza non stanno accadendo soltanto guai nel mondo in questo momento ma ci sono anche tante cose belle che possiamo condividere e che molto spesso anche le cose più difficili possono essere trasformate in opportunità troverete i link per comprendere meglio chi sono io chi è la nostra associazione cos'è Sum Gioia TV chi sono gli altri che cooperano con me troverete le mail troverete tutto quello che vi potrà essere utile per esserci vicini quindi grazie 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 per avermi donato questi tuoi sette minuti di amore un abbraccio e che la gioia sia con te sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti